5 polina era assorta in una profonda fantasticheria ma non appena ci siamo alzati da tavola mi ha ordinato di accompagnarla a passeggio abbiamo preso con noi i bambini e ci siamo diretti verso la fontana nel parco siccome mi trovavo in uno stato di straordinaria agitazione mi sono lasciato sfuggire una domanda stupida e grossolana perché mai il nostro marchese de griot il marchesino non soltanto non la accompagnava a passeggio quando lei usciva ma arrivava addirittura a non parlarle per giorni interi perché è un mascalzone mi ha risposto in tono strano io non l'avevo mai sentita esprimersi a quel modo sul conto di de griot e ho tociuto temendo di capire il motivo della sua irritazione lei ha notato che oggi il marchese non va d'accordo col generale ho chiesto allora evidentemente lei vuol saperne il motivo ha osservato polina in tono secco e irritato lei sa che il marchese ha ipotecato tutti gli averi del generale tutta la proprietà è ormai sua e così se la nonna non muore il francese prenderà immediatamente possesso di tutto ciò che ha pignorato e così è proprio vero che è tutto ipotecato ne avevo sentito parlare ma non sapevo che fosse proprio tutto proprio così in tal caso addio mademoiselle blanche ho osservato allora dunque non diventerà mai generalessa sa che le dico mi sembra che il generale sia talmente innamorato che sarebbe capace di ammazzarsi se mademoiselle blanche lo abbandonasse all'età sua è pericoloso innamorarsi a quel modo anche a me sembra che gli accadrà qualcosa ha osservato pensierosamente polina alexandrovna ma che magnifico spettacolo ho esclamato io blanche non poteva dimostrargli in modo più chiaro che ha consentiva a sposarlo solo per i soldi qui non si sono rispettate nemmeno le convenienze si è fatto tutto senza cerimonia che meraviglia e quanto alla nonna che ci può essere di più comico e disgustoso che mandare telegrammi su telegrammi domandando continuamente è morta o non è morta che gliene pare polina alexandrovna queste sono tutte sciocchezze ha replicato lei interrompendomi con disgusto al contrario io mi meraviglio di vederla in una così allegra disposizione di spirito per qual motivo è tanto allegro forse per aver perduto i miei soldi e perché lei me li ha dati se non per farmeli perdere le avevo pur detto che non potevo giocare per altri e tantomeno per lei io eseguo tutto ciò che lei mi ordina ma il risultato non dipende da me io l'avevo avvisata che non me ne sarebbe venuto niente di buono mi dica lei è molto avvelita per aver perduto tanto denaro a che le servono tanti soldi a che servono queste domande ma lei stessa ha promesso di spiegarmi mi stia a sentire io sono assolutamente convinto che quando comincerò a giocare per me e ho 12 federici vincerò certo allora prenda da me quanto le serve lei mi ha guardato con aria sprezzante non si arrabbi con me per una tale proposta ho ripreso io io sono così cosciente del fatto di essere una nullità davanti a lei e cioè ai suoi occhi che lei può perfino accettare dei soldi da me lei non può offendersi ricevendo un regalo da me del resto io ho perso i suoi lei mi ha gettato una rapida occhiata e vedendo che parlavo in tono sarcastico e irritato mi ha interrotto di nuovo le circostanze che riguardano me non devono interessarla minimamente se lo vuol sapere ho un debito ho preso dei soldi in prestito e vorrei restituirli mi era venuta un'idea strana anzi folle che qui avrei sicuramente vinto al tavolo da gioco non capisco come mi fosse venuta quella idea ma io ci credevo chissà forse ci credevo perché non avevo altra scelta o forse perché era assolutamente indispensabile vincere lei fa come chi per non annegare si aggrappa una pagliuzza lei ammetterà che se non stesse per annegare non prenderebbe certo la pagliuzza per un mo di quercia polina si è stupita ma come mi ha chiesto e lei stesso forse non ci spera tanto due settimane fa lei mi ha parlato a lungo del fatto che era assolutamente sicuro che avrebbe vinto qui alla roulette e si sforzava di convincermi a non considerarla pazzo forse lei scherzava soltanto eppure mi ricordo che lei parlava così seriamente che non si poteva proprio pensare che scherzasse è vero ho risposto facendomi pensieroso e ancora oggi sono assolutamente convinto che vincerò le confesserò che lei adesso mi ha indotto a pormi una domanda come mai questa mia assurda e scandalosa perdita di oggi non mi ha fatto venire nessun dubbio su me stesso io sono ugualmente convinto che non appena comincerò a giocare per me vincerò immancabilmente come mai lei ne è così convinto le confesso che non lo so so soltanto che mi è indispensabile vincere e questa la mia sola via d'uscita e forse è proprio per questo che mi sembra che devo immancabilmente vincere dunque anche per lei è assolutamente indispensabile vincere dal momento che ne è così fanaticamente convinto scommetto che lei dubita che io sia in grado di avvertire una seria autentica necessità questo non mi interessa ha risposto polina voce bassa indifferente se proprio vuole saperlo ebbene sì io dubito che ci sia qualcosa che possa tormentarla seriamente lei può pure tormentarsi ma non seriamente lei è un uomo disordinato e instabile a che le servono i soldi tra tutti i motivi che lei mi ha allora adotto non ne ho trovato neanche uno serio a proposito l'ho interrotta io lei ha detto che deve pagare il debito vuol dire che è un debito che le sta a cuore non sarà mica col francese per caso ma che domande sono queste lei è oggi particolarmente impertinente non sarà mica ubriaco per caso lei sa bene che io mi permetto di dire qualsiasi cosa e certe volte faccio delle domande con assoluta franchezza le ripeto che io sono il suo schiavo e di uno schiavo non ci si vergogna né egli ci può offendere queste sono tutte sciocchezze non posso soffrire questa sua teoria schiavista la prego di rilevare che io non parlo del mio stato di schiavitù perché desideri di essere il suo schiavo bensì ne parlo semplicemente come di un fatto che non dipende minimamente dalla mia volontà parli francamente a che le servono i soldi e a lei che le serve saperlo come vuole ha replicato polina scuotendo orgogliosamente il capo lei non può soffrire la mia teoria schiavista ma uno schiavo invece le fa comodo rispondere senza discutere ebbene sia come vuole lei lei mi chiede a che mi servono i soldi ma come a che mi servono i soldi sono tutto capisco ma desiderare i soldi non deve condurre alla follia lei invece arriva alla frenesia al fatalismo qui sotto c'è qualcosa un qualche scopo preciso parli senza far tante storie lo voglio vedevo che stava cominciando ad arrabbiarsi e mi faceva un gran piacere che mi interrogasse con tanto calore naturalmente uno scopo c'è ho risposto ma non saprei spiegarle quale sia non è altro che questo con i soldi io diventerò anche per lei un altro uomo e non sarò più uno schiavo e come come otterrà una cosa del genere come lo terrò dunque lei non capisce nemmeno come io possa far sì che lei mi guardi diversamente da come si guarda uno schiavo ebbene è proprio questo che io non voglio non voglio queste sue meraviglie e incomprensioni ma lei ha detto che la schiavitù è per lei un piacere e io pensavo che fosse vero ah lei lo pensava ho esclamato io preso da una strana euforia ah come le sta bene una tale ingenuità ma sì sentirmi il suo schiavo è per me una gioia c'è è vero c'è una certa gioia anche all'ultimo gradino dell'umiliazione e dell'annullamento ho continuato in preda a un vero delirio ma sì lo sai il diavolo forse c'è un certo piacere anche nello knut quando lo knut ti si stende sulla schiena e ti strappa la carne a brandelli ma chissà forse io voglio provare anche altri piaceri poco fa il generale alla sua presenza mi ha fatto un bel sermone per 700 rubli all'anno che forse non vedrò mai il marchese de griot mi guarda inarcando le sopracciglia e intanto non mi vede nemmeno e io per parte mia chissà forse desidero proprio prendere per il naso il marchese de griot alla sua presenza questi sono discorsi da bambino in ogni situazione si può conservare la propria dignità se c'è lotta essa deve innalzarci e non umiliarci sembra una frase copiata da un libro di lettura ma lei supponga soltanto che io non sappia conservare la mia dignità cioè mettiamo che io abbia una mia dignità ma che non sia capace di comportarmi con dignità lei comprende che ciò può veramente accadere ma in fondo tutti i russi sono così e sa perché perché i russi sono dotati di una personalità troppo ricca e multiforme per poter trovare una forma adeguata si tratta di una questione di forma per lo più noi russi siamo così riccamente dotati che per trovare una forma adeguata ci è indispensabile la genialità ma il più delle volte questa genialità non c'è semplicemente perché ce n'è poca questo mondo soltanto nei francesi o forse anche in qualche altro popolo europeo la forma è stata così ben definita che è possibile avere l'aspetto più dignitoso ed essere in realtà l'uomo più privo di dignità proprio per questo per loro la forma ha tanta importanza un francese in grado di sopportare un'offesa un'autentica offesa che lo colpisca in fondo al cuore senza batter ciglio ma per nulla al mondo tollererà un buffetto sul naso perché ciò costituirebbe una violazione delle forme tradizionalmente e convenzionalmente accettate le nostre signorine hanno un debole per i francesi proprio perché in loro la forma è perfetta secondo me invece loro non hanno neppure la forma ma soltanto il prestigio di un galletto le coq goloa del resto io questo non posso capirlo perché non sono una donna può darsi che ci sia del buono anche nei galletti comunque mi sono lasciato trascinare e lei non mi ha fermato la prego di fermarmi più spesso già che quando parlo con lei io ho una gran voglia di dire tutto 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 e così perdo ogni forma posso anche convenire sul fatto che io non soltanto non ho la forma ma non ho neppure nessuna qualità glielo dichiaro formalmente e non mi preoccupo nemmeno di avere delle qualità ormai in me tutto si è fermato e lei sa perché non ho in testa neppure una sola idea umana da un pezzo non so più quel che succede nel mondo né in russia né qui ecco per esempio sono passato per tresda e non ricordo nemmeno che aspetto avesse lei sa bene che cosa mi ha assorbito tutto intero siccome non ho nessuna speranza e ai suoi occhi sono uno zero glielo dico francamente io vedo soltanto lei dappertutto e tutto il resto mi è indifferente come e perché io la amo non lo so sa che forse lei non è affatto bella può credere che io non so neppure se lei è bella o no neanche diviso probabilmente il suo cuore non è buono e l'intelletto non è nobile questo è molto probabile e forse lei conta di comprarmi col denaro proprio perché non crede nella mia nobiltà d'animo ha replicato polina e quando mai ho pensato di comprarla col denaro ho esclamato io lei si è imbrogliato e ha perso il filo se non me lei spera di comprare con i soldi almeno il mio rispetto no non è affatto così le ho già detto che mi è difficile spiegarmi lei mi schiaccia non si arrabbi per queste mie chiacchiere lei capisce bene perché non ci si può arrabbiare con me io sono semplicemente matto e del resto per me è lo stesso anche se lei si arrabbia quando sarò su nella mia stanzetta mi basterà ricordare o immaginare anche soltanto il fruscio del suo abito perché mi venga voglia di mordermi le mani lei è in collera con me anche per questo anche per il fatto che mi definisco suo schiavo approfitti approfitti della mia condizione di schiavo ne approfitti pure lei sa che un giorno io la ucciderò non l'ucciderò perché avrò smesso di amarla o per gelosia ma semplicemente così perché certe volte mi viene voglia di divorarla lei ride no non rido affatto mi ha interrotto lei indignata le ordino di tacere e qui si è fermata respirando astento per l'ira dio mio io non so davvero se lei fosse bella ma mi piaceva sempre guardarla quando si fermava in quell'atteggiamento davanti a me e per questo mi piaceva provocare spesso il suo sdegno può anche darsi che lei se ne fosse accorta e che si arrabbiasse apposta glielo ho detto che schifo ha esclamato lei con disgusto mi è perfettamente indifferente ho replicato ma sa cosa le dico ancora che andare a passeggio noi due soli è pericoloso tante volte provo la tentazione irresistibile di batterla sfregiarla strangolarla lei forse pensa che io non arriverò tanto ma lei mi conduce al delirio lei pensa che io tema lo scandalo o la sua ira ma che me ne importa della sua ira lo amo senza speranza e so che dopo una cosa del genere la amerò mille volte di più se un giorno io l'ucciderò ebbene dovrò per forza uccidere anche me eppure induggerò il più possibile a uccidermi per provare il dolore insopportabile della sua mancanza ma voglio dirle una cosa in vero simile io l'amo ogni giorno di più anche se questo è quasi impossibile e con tutto ciò io non dovrei essere fatalista lei si ricorderà che l'altro giorno sullo schlangenberg provocato da lei io le ho sussurrato dica una parola e io salterò nell'abisso se lei avesse detto quella parola io mi sarei buttato di sotto forse lei non crede che mi sarei buttato che chiacchiere sciocche ha esclamato polina non me ne importa nulla se siano sciocche intelligenti ho esclamato io so soltanto che davanti a lei io debbo assolutamente parlare 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 così parlo davanti a lei io perdo ogni amor proprio e non me ne importa niente e perché avrei dovuto costringerla a gettarsi dallo schlangenberg ha detto polina in tono particolarmente secco e offensivo questo per me sarebbe perfettamente inutile magnifico ho esclamato lei ha pronunciato questo magnifico inutile apposta per schiacciarmi io la vedo da parte a parte inutile dice lei ma il piacere è sempre utile e il sentimento di disporre di un potere assurdo e sconfinato su qualcuno fosse pure una mosca ci dà un certo piacere l'uomo è un despota per natura e ama infliggere tormenti lei questo lo ama alla follia ricordo che polina mi osservava con uno sguardo particolarmente attento evidentemente il mio volto in quel momento esprimeva tutte le sconnesse e assurde sensazioni che mi agitavano ricordo benissimo che la nostra conversazione si è svolta quasi parola per parola così come ora la riporto gli occhi mi si erano iniettati di sangue gli angoli della bocca si erano coperti di bava e per quanto riguarda lo slangenberg lo giuro sul mio onore anche adesso se lei allora mi avesse ordinato di buttarmi di sotto io mi ci sarei buttato anche se me l'avessi detto per scherzo o con disprezzo magari sputandomi addosso ebbene mi sarei buttato lo stesso no perché io le credo ha detto polina ma l'ha detto in un modo come essa soltanto talora sapeva dirlo con un tale disprezzo una tale malignità e una tale alterigia che io lo giuro avrei potuto ucciderla in quel momento lei rischiava molto anche su questo non le avevo mentito lei non è un vigliacco mi ha chiesto a un tratto non saprei potrebbe anche darsi che fossi un vigliacco non so proprio da un pezzo non ci ho pensato su se io le dicessi uccida quell'uomo ebbene lei lo ucciderebbe chi chi vorrò io il francese non faccio domande risponda chi le dirò io voglio sapere se lei adesso ha parlato seriamente e aspettava la risposta con un'aria così seria e impaziente che io ho provato una strana sensazione ma mi dica una buona volta che diavolo sta succedendo qui ho gridato forse lei avrebbe paura di me le vedo benissimo da me tutte le cose che qui non vanno lei è la figliastra di un uomo rovinato e folle contagiato dalla passione per quella diavolessa blanche poi c'è questo francese con la misteriosa influenza che esercita su di lei ed ecco che ora lei mi fa seriamente una tale domanda ma almeno che sappia anch'io altrimenti diventerò pazzo e farò qualche sciocchezza o forse lei si vergogna di degnarmi della sua fiducia ma è possibile che lei si vergogni di me non è affatto di questo che le sto parlando ho fatto una domanda e attendo una risposta naturalmente ucciderò chiunque lei mi dirà di uccidere ho gridato ma è possibile che lei me lo ordini davvero e cosa crede che avrò pietà di lei le darò l'ordine e resterò alla finestra a guardare ma lei sopporterà una cosa del genere ma che non è capace magari lei ucciderà pure sul mio comando ma poi ucciderà anche me per punirmi di aver osato darle quell'ordine a sentire quelle parole fu come se avessi ricevuto una mazzata in testa naturalmente allora consideravo quella sua richiesta per metà come uno scherzo o una sfida eppure lei aveva parlato troppo seriamente e comunque ero colpito dal fatto che si fosse espressa a quel modo che si attribuisse un tale potere su di me e rivendicasse un tale diritto da dirmi francamente va alla rovina e io resterò a guardare in quelle sue parole c'era qualcosa di talmente cinico e franco che per me era veramente troppo e allora lei che considerazione aveva di me si arrivava a dirmi addirittura questo questo andava oltre ogni limite di schiavitù o di annullamento in genere dopo aver considerato un uomo a questo modo una donna l'innalza fino a sé e per quanto assurda e inverosimile fosse tutta quella conversazione pure a un tratto il cuore mi diede un balzo improvvisamente polina è scoppiata a ridere stavamo seduti su una panchina poco lontano dai bambini intenti a giocare e poco lontano dal punto dove si fermavano le carrozze per far scendere il pubblico all'ingresso del viale che portava al casino vede quella grassa baronessa ha esclamato polina è la baronessa wurmerelm arrivata qui solo da tre giorni vede quello è suo marito quel lungo asciutto prussiano con un bastone in mano si ricorda come ci osservava l'altro giorno beh adesso vada si avvicini alla baronessa si tolga il cappello e le dica qualcosa in francese e perché lei ha giurato che si sarebbe buttato giù dallo schlangenberg lei giura adesso di essere pronto a uccidere se io glielo ordinerò invece di tutti questi ammazzamenti e tragedie ho voglia soltanto di divertirmi un po vada senza fare tante discussioni mi è venuta voglia di vedere come il barone la picchierà con quel suo bastone lei mi sfida crede dunque che non lo farò sì io la sfido vada dunque già che io lo voglio e va bene andrò anche se si tratta di una sciocca fantasia solo ecco cosa voglio dirle non vorrei che ne derivasse qualche seccatura per il generale e quindi anche per lei le giuro che non mi preoccupo per me ma per lei e anche per il generale e che razza di fantasia è quella di offendere una donna no vedo che lei è soltanto un chiacchierone ha replicato sprezzantemente polina le si sono soltanto iniettati gli occhi di sangue poco fa ma forse perché aveva bevuto troppo vino a pranzo forse non capisco anch'io che una cosa simile è sciocca e volgare che il generale si arrabbierà ho semplicemente voglia di ridere insomma lo voglio e basta e perché lei dovrebbe offendere quella donna piuttosto è più facile che la bastonino per bene allora le ho voltato le spalle e sono andato a eseguire il suo ordine naturalmente era una sciocchezza e naturalmente non sapevo assolutamente come sarei uscito dall'imbroglio in cui mi stavo cacciando ma ricordo che mentre mi avvicinavo alla baronessa provavo dentro di me un certo eccitamento come può eccitare una monelleria per giunta ero terribilmente esasperato come se fossi ubriaco 6 ecco che sono già passati due giorni da quella stupida giornata e quanto rumore quanto fracasso quante chiacchiere quante grida e quanto disordine confusione stupidaggini e volgarità tutto per colpa mia se non succesi e poi